E' stato rimosso, il bus è precipitato ieri sera per cause ancora da accertare da un cavalcavia a Mestre. 21 le vittime, tra cui due bambini e un neonato, 15 feriti, tutti turisti stranieri, tra cui ucraini, francesi, croati e tedeschi, che stavano rientrando a Marghera da Venezia. Il mezzo, secondo alcune testimonianze, avrebbe sbandato più volte prima di precipitare facendo un volo di circa 30 metri. La Procura di Venezia ha aperto un'inchiesta per chiarire le dinamiche dell'incidente, tra le ipotesi forse un malore dell'autista, un quarantena italiano, anche lui tra le vittime. Sull'asfalto non ci sarebbe traccia di alcuna frenata. Grazie per la visione!